Amici niter, amiche niter, buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video io mi chiamo Valentina, questo è il mio canale tb6nitz e benvenuti se non ci conosciamo ancora e bentornati se ci conosciamo già oggi parleremo della lavorazione alla continentale, subito dopo la sigla Valentina, Valentina che cucelala, cucelala, cucelala Amici, amiche, video definitivo sulla lavorazione alla continentale c'è sempre un poco di confusione a riguardo e quindi ho pensato di fare un video che chiarisca definitivamente la situazione almeno che la chiarisca il più possibile ecco perché insomma girano tanti falsi miti, tante informazioni magari anche un po' sbagliate quindi volevo mettere il punto alla situa come si dice se questo tipo di video vi piace, se volete sostenere il mio canale se volete che la community della maglia cresca sempre di più e diventi sempre più belle e più grande mi raccomando mettete un bel pollicione a questo video condividetelo con un popolo affinché il verbo della maglia si sparga nel mondo e se volete seguirmi anche su altri social e su altri canali trovate tutte le informazioni nell'info box il mio negozio su Ravelry dove trovate tutti i miei pattern la mia pagina facebook e il mio account instagram soprattutto su questo seguitemi perché vorrei farlo crescere un pochino di più su facebook trovate anche un gruppo Valentina Cosciani Big Family nel quale ci troviamo proprio tra noi strette intime siamo tantissime in realtà se vorrete fare una qualsiasi di queste cose un commentino, un cuoricino, un piccolo pollicione io vi ringrazio moltissimo allora ragazzi incominciamo dunque cercherò di essere il più concisa possibile ma per forza di cose credo che il video sarà abbastanza lungo ho voluto comunque fare un video unico per raggruppare tutte le informazioni in mio possesso e che ritengo importante dire in un unico video e non farne diversi perché poi penso che possano venire perduti nel lettere quindi la lavorazione alla continentale ha svariati vantaggi dunque il primo vantaggio è quello di non infilare appunto un ferro sotto il braccio sotto le ascelle quindi assumere una posizione contratta quindi lavorerete con i ferri in mano e lavorerete senza tanti dolori senza contratture muscolari quindi è decisamente un tipo di lavorazione più ergonomica e più vantaggiosa per il vostro corpo nel senso che potete lavorare veramente per tante ore inoltre se avrete l'arcortezza di lavorare appoggiando i gomiti su un supporto che può essere un cuscino, un bracciolo quello che volete, il letto voi potrete lavorare veramente per tantissime ore senza sentire la stanchezza perché i movimenti delle mani sono relativamente piccoli e quindi è una lavorazione generalmente più ergonomica di gettare il filo detto questo anche lavorando con il filo a destra si possono ottenere gli stessi identici risultati se non mettiamo il ferro sotto l'ascella quindi non è che la lavorazione con il filo a destra è il babau del quale noi dobbiamo avere paura ma ovviamente evitare come la peste e la morte l'abbinamento ferri circolari lavorazione alla continentale non è così, ho fatto svariati video che magari vi metterò da questa parte o da questa parte non mi ricordo mai da dove viene fuori per sfatare questo mito e per dirvi che la lavorazione alla continentale non è associata alla lavorazione con i ferri circolari io ho imparato con la lavorazione a German e ho lavoro da tutta la vita così prima che venissero fuori i ferri circolari lavoravo con i ferri diritti senza nessunissimo problema e ci sono tantissime mie amiche che continuano a lavorare con il filo a destra con i ferri circolari quindi l'abbinata è assolutamente da sfatare facciamo il punto, cosa vuol dire lavorazione alla continentale? lavorazione alla continentale vuol dire lavorare con il filo a sinistra solo questo si contrappone alla lavorazione English che vuol dire filo a destra allora va da sé che come si lavora English in tante maniere altrettante se non anche di più si lavora con il filo a sinistra quindi a me piace parlare di queste due grandi categorie filo a destra e filo a sinistra filo a destra noi sappiamo che si può lavorare come lo chiamiamo noi all'italiana cioè con il ferro ficcato sotto l'ascella e gettando il filo in realtà si può questo è il modo in cui noi lavoriamo tradizionalmente in Italia e si lavora tradizionalmente anche in tanti altri paesi ma in realtà non è l'unico modo di tenere il ferro e gettare il filo con il filo a destra si può tranquillamente tenere i ferri anche molto più bassi e quindi non ficcare il ferro sotto l'ascella ma infilarlo per esempio in una knitting belt in una cintura per la maglia che è dotata di una specie di cuscinetto che così non ci ferriamo la pancia e quindi si fa la stessa cosa ma tutto molto più basso oppure addirittura si possono tenere i ferri in mano e il filo addirittura scorre tra le dita insomma ci sono tantissimi modi di lavorare con il filo a destra e li conosciamo tutti io no perché non è il mio modo di lavorazione cioè non lavoro in questo modo quindi ne conosco solamente pochi ma sicuramente ce ne sono tantissimi tanti esistono anche quando parliamo della lavorazione con il filo a sinistra qui io vorrei fare una discriminante molto molto grossa ci sono due grandi scuole che sono chiamate una continental e quindi lavorazione alla continentale sempre per il filo a sinistra e sempre tenendo il filo a sinistra un'altra lavorazione si chiama Eastern Uncrossed perché queste due grandi scuole? tutto dipende da come si presenta il tessuto con la lavorazione alla continentale sì il lavoro si presenta esattamente uguale a come si presenta con la lavorazione con il filo a destra e cioè in una come vedrete e perché vi metterò una clip il tessuto a maglie è formato da tante maglie tutte queste maglie sono formate da due gambette cioè come la maglia sta sopra il ferro la lavorazione alla continentale e con il filo a destra diciamo con il filo a destra si presenta sempre nello stesso modo ovvero sia con la gambetta di destra portata avanti il ferro la gambetta a sinistra è portata dietro adesso vi metto una clip per farvi vedere come si presenta così si presenta la maglia rasata notiamo che il punto la maglia ha un verso il punto ha la gambetta diciamo di destra davanti al ferro e la gambetta di sinistra dietro al ferro noi per ottenere il punto diritto dovremmo infilare sempre la punta del ferro in questo modo passiamo ora al rovescio anche in questo caso notiamo che il lavoro ha una direzione come dire anche in questo caso notiamo e forse le maglie che sono sul cavo le possiamo vedere meglio anche in questo caso la gambetta del punto è destra e rivolta verso avanti cioè sul davanti del ferro e la gambetta sinistra è dietro questa è la posizione corretta delle maglie quando si lavora alla continentale oppure anche con il filo a destra naturalmente è la stessa cosa identica dobbiamo ottenere quindi lo stesso risultato quindi come vediamo il tessuto a maglia si presenta in un modo particolare sia che siamo sul diritto del lavoro sia che siamo sul rovescio del lavoro sempre nello stesso modo questo è molto importante da tenere presente perché in questa maniera lavora la maggioranza delle persone o con il filo a destra o con il filo a sinistra il tessuto che deriverà da questa lavorazione è codificato che deve presentarsi così per cui successivi ed eventuali lavorazioni come possono essere aumenti direzionali e diminuzioni direzionali sono fatte per questo tipo di tessuto se noi invece lavoriamo eastern and crossed lavoreremo in un altro modo per cui la maglia, il tessuto si presenterà in un modo diverso cioè alla fine il tessuto si presenterà uguale per tutti quanti i tipi di lavorazione però durante la lavorazione il tessuto a maglia si presenterà in un modo diverso e cioè contrariamente alla lavorazione con il filo a destra e continental la lavorazione eastern and crossed presenterà le maglie ritorte cioè con la gambetta della maglia di sinistra portata verso avanti sul davanti del ferro e la gambetta destra portata verso il dietro se ne consegue che se io lavoro in questo modo aumenti e diminuzioni direzionali dovranno essere affrontati in un modo diverso ecco per cui quindi oggi noi non affronteremo ovviamente questo tipo di lavorazione anche perché io non la conosco molto bene è un tipo di lavorazione abbastanza diffusa non diffusa come le altre due quindi noi oggi non la tratteremo tratteremo ovviamente solamente della lavorazione continental tornando a noi quindi diciamo che la lavorazione continental vuol dire quindi lavorazione con il filo a sinistra con il tessuto aperta parentesi con il tessuto che si presenta come nelle clip precedenti chiusa la parentesi quindi anche qua come nella lavorazione con il filo a destra si possono tenere i ferri e gettare il filo in tantissimi modi diversi d'accordo per cui è veramente molto molto vasto questo argomento io oggi vi voglio far vedere i tre tipi diciamo più comuni di tenuta del ferro e lavorazione del punto cioè formazione del punto la prima è la lavorazione che adoperò io personalmente continental german puro e cioè come lavoro io la caratteristica è avere il dito indice molto alto e tenere i ferri con tutte le altre dita e tenere il ferro anche appoggiato sul palmo delle mani per avere maggiore stabilità la seconda lavorazione tipo di lavorazione è la tecnica scoop che implica più o meno la stessa tenuta del ferro e ci sarà un... e anche del filo anche qua il dito indice sarà molto alto non così alto come nel german e soprattutto questo dito indice lavorerà moltissimo perché sarà questo che formerà le maglie la terza lavorazione tipo di lavorazione è quella che in italia è davvero molto comune ed è la lavorazione ergonomica e cioè i ferri vengono tenuti con la punta delle... solamente con le dita con la punta delle dita e il dito indice che porta il filo è molto molto vicino al ferro devo dire che nelle clip ho cercato di fare del mio meglio non riesco a lavorare benissimo anzi non riesco a lavorare per niente in questo modo ma volevo comunque farvi... darvi almeno una piccola idea di come poteva risultare questo tipo di lavorazione i suoi pregi e i suoi difetti pregi e difetti delle varie lavorazioni dunque lavorazione german è una lavorazione che non è estremamente veloce anche perché appunto lavoriamo con delle punte molto sfoderate e il movimento è molto ampio quindi se ne deduce che non è proprio velocissima a mio parere per la lavorazione di certi punti particolari trecce, pizzi dove occorre fare mille maneggi con i ferri è molto positiva, cioè mi trovo molto bene con questo tipo di lavorazione con la lavorazione scoop a mio avviso è molto più difficile fare degli errori con il rovescio perché c'è un grande dispendio di movimenti quindi delle posizioni di ferro e dita molto precise per cui è più difficile fare errori di lavorazione con l'ultima la lavorazione ergonomica va da sé, dallo stesso nome si fanno pochissimi movimenti quindi è molto più veloce delle altre due appunto proprio perché si lavora tutto molto vicino molto ergonomico appunto si fanno pochi movimenti e quindi il lavoro va più veloce a mio parere è meno maneggevole per certi tipi di lavorazione un po' più complicate ci sarà un bonus nelle clip ci sarà il rovescio alla norvegese che di solito faccio vedere ai miei corsi perché è un tipo di rovescio che può aiutarci le prime volte per capire come effettivamente deve essere posizionato il filo e non fare errori con la formazione del rovescio ora vi farei partire le clip la prima serie è destinata è dedicata alla formazione della maglia diritta la seconda serie è destinata alla formazione della maglia rovescia le guardiamo insieme dopodiché ci ritroviamo qui il primo metodo che vi farò vedere è quello che uso personalmente il continental german puro quindi come impugno io i ferri innanzitutto regolo il filo per la tensione per la tensione vi rimando al mio video appunto su come regolare la tensione e impugno i ferri io li impugno in questo modo tenendo parte del ferro appoggiata sul palmo della mano e impugnando quindi con le restanti dita il ferro lo impugno come una matita no pardon non come una matita come uno scalpello e incomincio a lavorare il punto diritto la maglia diritta quindi procedo come vedete inserisco la punta del ferro faccio un piccolo movimento con la mano sinistra per avvolgere il filo intorno al ferro tendo il filo che si va a posizionare nella nicchia formata tra i due ferri e il punto e con l'aiuto anche del pollice per tenere ferma la maglia lo sfilo faccio vedere di nuovo come osservate io tengo i ferri molto si dice sfoderati cioè con quest'ultima parte piuttosto nuda senza maglie è sicuramente un tipo di lavoro che impedisce la perdita delle maglie durante il lavoro stesso come vedete sono piccolissimi movimenti e sono le due mani che lavorano insieme le dita tengono tutte le altre maglie come dicevamo esistono altri modi per ottenere la maglia rasata naturalmente e quindi vi faccio vedere il secondo modo è il cosiddetto scoop ovvero sia tutto il lavoro resta fermo anche le mani restano ferme e lavora solamente il dito indice della mano sinistra come premesso questi metodi successivi rispetto al primo non sono i miei metodi congeniali nel senso che io non lavoro secondo questi metodi e quindi noterete che sono piuttosto impacciata come dicevamo prima e lo ripeto anche adesso però voglio farveli vedere lo stesso finché voi troviate il vostro modo preferito con cui lavorare secondo il metodo continentale quindi procediamo come prima inseriamo la punta del ferro all'interno tutto è fermo il dito si muove e avvolge il filo intorno al ferro che poi molto semplicemente verrà estratto di nuovo come notate la postura assomiglia moltissimo a quella precedente solamente tutte le mani e il lavoro sono fermi e si muove solamente un dito ovviamente vado molto lenta perché mi devo concentrare moltissimo perché non è il mio metodo preferito passiamo quindi al terzo e ultimo metodo per ora più comune per la lavorazione alla continentale ovvero sia il metodo ergonomico per cui come sempre avvolgiamo in questo caso tutte le dita restano tutte attaccate al ferro questo è davvero un metodo che per me è molto difficile da lavorare perché veramente tendo sempre ad alzare il dito indice però mi sforzerò di mantenerlo il più vicino possibile in pratica il dito è veramente molto molto vicino e quindi si lavora tutto in punta come dire le punte sono molto poco sfoderate come vedete la lavorazione avviene veramente quasi solamente con le dita delle mani e i ferri non sono poggiati al palmo con questo tipo di lavorazione è molto semplice anche la lavorazione con i mini circolari ecco io devo dire non lavoro benissimo come vedete con questo sistema però ve l'ho voluto ecco vedete che tendo sempre ad alzare il dito volevo comunque farvelo vedere lo stesso come vedete le punte sono tenute con la punta delle dita ecco vedete non appoggio e lavoro sempre in punta ed eccoci pronti quindi per la lavorazione alla continentale German ovvero sia quella che adopero io per cui come si lavora quindi il rovescio allora il filo deve essere posizionato al di sopra del ferro prima della maglia che dobbiamo lavorare inseriamo la punta del ferro da dietro verso avanti e sempre con un piccolo movimento della mano sinistra ma anche destra avvolgiamo il filo intorno al ferro tiriamo leggermente e lo posizioniamo nella corretta posizione cioè il più possibile vicino alla base del punto dopodiché lo spingiamo fuori e voilà fatto il punto rovescio lo rifaccio infilo giro tiro spingo fuori ovviamente io mi ogni tanto aiuto con il pollice naturalmente questo è un movimento che io faccio in più perché mi trovo bene potrebbe naturalmente anche non esserci ultima volta ecco come vedete le mani lavorano tutte quante insieme e concorrono alla formazione del punto questo è un tipo di lavorazione che io uso abitualmente e quindi chiaramente mi è molto congeniale vediamo ora con la lavorazione scoop quindi impugniamo correttamente il filo e vediamo che la situazione assomiglia molto a quella di prima con delle varianti per cui inseriamo il ferro esattamente nella stessa posizione di prima dopodiché lo scostiamo leggermente puntandolo verso di noi quindi il dito indice va giù il ferro si riposiziona il dito indice va su e il movimento successivo è uguale a quello di prima questo cavo mi dà un po' fastidio ecco rifacciamolo quindi di nuovo così sposto riposiziono e via ovviamente io mi sto concentrando moltissimo ma questo è un sistema che ho visto lavorare anche molto molto velocemente in ogni caso anche in questo caso le mani concorrono tutte alla formazione del punto come nella lavorazione precedente la continental german e naturalmente cambiano i movimenti oh scusate passiamo ora alla lavorazione ergonomica quella l'ultima che vi ho fatto vedere e quindi anche in questo caso dobbiamo avere una posizione delle mani diversa una posizione delle dita diversa e anche in questo caso la formazione del punto avviene con la punta dei ferri la punta delle dita molto molto vicina è molto scomoda per me vi devo dire la verità ma è una questione di assolutamente di gusti personali conosco persone che lavorano velocissime con questo tipo di lavorazione e quindi è davvero una questione di gusti personali ecco vedete io faccio davvero molta fatica a fare questo tipo di lavorazione proprio perché lavoro con il dito sinistro molto alzato ma chi si trova bene con questo tipo di lavorazione si chiama ergonomica come dicevo proprio perché richiede il minimo dispendio di movimenti contrariamente a quello che sto facendo io adesso potremmo decidere di far vedere anche come si forma il Norwegian Pearl ovvero sia il rovescio alla norvegese da molti viene usato proprio per evitare la formazione del rovescio ritorto che è uno dei più come dire dei punti caldi del continentale ovvero sia il rovescio difficile rispetto alla lavorazione con il filo a destra dunque apparentemente non solo apparentemente ovviamente ha un grosso dispendio di movimenti ma con questa metodologia è impossibile lavorare il rovescio ritorto per cui in questo caso il filo è dietro il ferro il ferro di sinistra entriamo sempre nello stesso modo giriamo le punte una intorno all'altra peschiamo il filo ritorno nella posizione abituale e lo tiro fuori di nuovo pesco ritorno ed ecco qua come vedete il rovescio è assolutamente identico agli altri dopo questa lunga carrellata di clip spero che sia un pochettino più chiaro come si forma la maglia e come viene tenuto il filo e come vengono tenuti i ferri ho cercato di essere il più chiara possibile ora la domanda successiva ovviamente sarà diversa io, certe persone potrebbero chiedermi ma io non lavoro in nessuno dei tre modi è sbagliato il mio modo di lavorare? assolutamente no i tre modi che io faccio vedere in queste clip che ho appena fatto passare più una, quattro per il rovescio sono assolutamente i metodi più comuni ma non sono gli unici non sono gli unici per cui se voi tenete i ferri e fate il punto viene con lo stesso tessuto la maglia si presenta nello stesso modo ma voi fate qualcosa di diverso assolutamente state facendo benissimo non smettete di farlo se la vostra tensione è perfetta va benissimo va benissimo così non c'è necessità di cambiare assolutamente io ho voluto far vedere che ci sono più modi di ottenere la lavorazione continental molto spesso nei video qua su youtube se ne vede solamente una una per tipo io ho voluto raccoglierne più di una in un unico video in modo da far vedere che sono tutte giuste tutte corrette e vi dirò di più se siete all'inizio io vi consiglio di provarle tutte e tre e scegliere successivamente quale può essere il vostro modo congeniale di lavorazione tutto detto questo naturalmente stiamo parlando di continental se voi state lavorando già con la lavorazione con il filo a destra e vi trovate bene continuate con quella e va benissimo assolutamente sto dando delle informazioni per chi vuole incominciare a lavorare continental e non ha le come dire le informazioni necessarie ok dopo avervi fatto vedere come si lavora come si tiene il filo come si forma la maglia il mio consiglio ora è questo volete approcciarvi a questo tipo di lavorazione l'unica è buttarsi e lavorare provatele tutte e tre e attenzione può essere che la formazione per esempio del diritto vi piaccia di più di un tipo per esempio vi piace la german però al rovescio vi trovate molto bene con il norvegian pearl cioè il rovescio alla norvegese va benissimo anche mescolarle cioè non è che se noi lavoriamo german dobbiamo lavorare sempre solo così se lavoriamo ergonomico dobbiamo lavorare sempre solo così possiamo mescolare le varie tenute del filo le varie formazioni no le formazioni della maglia sono sempre quelle però voglio dire possiamo mescolare le varie tipologie e trovare il modo corretto il modo giusto che è per noi il modo giusto ed è personale se qualcuno vi viene a dire state sbagliando o stai sbagliando perché si fa così si fa colà e il vostro tessuto è perfetto voi non ascoltatelo mandatelo a quel paese o fatelo parlare con me che ci parlo io e lo sistemo io una delle difficoltà maggiori quando si affronta la lavorazione alla continentale anzi direi praticamente l'unica è per quanto riguarda la formazione del rovescio la formazione del rovescio mi sono accorta che per molte persone è piuttosto complicata il rovescio realizzare il rovescio alla continentale non è semplicissimo come abbiamo visto dalle clip precedenti bisogna fare tutto un lavoro di giramento del filo o di movimento del ferro eccetera quindi molto spesso le persone affidandosi magari a video non proprio chiarissimi fanno quello che viene chiamato il rovescio sbagliato in realtà non è il rovescio sbagliato ma è un rovescio preso in un modo diverso che dà origine a un rovescio ritorto e quindi praticamente è la lavorazione eastern and crossed non è che sia sbagliato lavorare eastern and crossed anzi ma se vogliamo lavorare continentale non dobbiamo fare questa cosa vi metto la clip in effetti lavorare a rovescio con tutti quei movimenti è piuttosto scomodo e quindi molto spesso le persone che non hanno capito bene la lavorazione alla continental fanno questo errore qui e cioè questa è la posizione corretta del filo e del ferro no scusatemi che mi devo sforzare di fare sbagliato allora così e molto spesso le persone invece di fare questo movimento e cioè tenere entrambi cioè entrambi i fili sia quello del che lavora sia quello della maglia sopra il ferro e quindi girare con il ferro cosa succede ne tengono solamente la maglia e poi sfilano sfilano prendono il filo in questo modo e lo tirano fuori così apparentemente questo sembra lo stesso movimento e uno dice ah wow il rovescio in questo modo è davvero molto facile certo che è facile ma non è un rovescio continental scusatemi devo sforzarmi di farlo male perché guardate cosa sta succedendo questi sono i rovesci fatti in precedenza e sono posizionati correttamente e cioè con la gambetta destra sul davanti del ferro e la sinistra sul dietro queste invece come vedete si presentano girate ovvero sia ritorte se noi le guardiamo anche dall'altra parte notiamo che sono ritorte quindi ripetiamo se abbiamo fatto questo fino ad adesso questa cosa il giro dopo il ferro dopo quando ci ritroviamo sul diritto del lavoro noi avremo tutte le maglie girate come ci siamo accorti quindi sono tutte ritorte non è che sia sbagliato di per sé questa cosa noi le dobbiamo raddrizzare e boh stiamo lavorando una cosa simile all'ister dan cross quindi per un principiante magari potrebbe non essere super vantaggiosa questa cosa perché poi facendo come dicevamo all'inizio del video aumenti e diminuzioni direzionali dovremo avere in mente molto bene come stiamo lavorando e quindi fare le debite correzioni per cui se vogliamo lavorare continentale noi dobbiamo evitare questo errore se vogliamo lavorare eastern dan cross continuiamo pure e sono scelte tutto è giusto non c'è nulla di sbagliato bisogna naturalmente avere ben presente però quello che stiamo facendo essere consapevoli molto bene io spero di aver fatto finalmente un poco di chiarezza in questa lavorazione così amata così di moda in quest'ultimo periodo e spero che vi sia stato utile se questo tipo di video appunto vi è utile e vi è stato utile mi raccomando mettete qua sotto l'emoticon di un gomitolo così io lo saprò io nell'attesa di un ulteriore video vi saluto e vi dico sfruttate più che potete ci vediamo al prossimo video ciao ciao